Ma chiaramente ho la fortuna di allenare un gruppo di uomini veri che non li cambierei con nessuno. Nel senso che questa rosa che ho a disposizione sono 20 mesi che mi dà grandissime soddisfazioni, grandissime gioie. Penso che le abbiamo regalate anche alla nostra società e ai nostri tifosi. Ho detto che c'è grandissima responsabilità per la partita che andremo a fare domani. I ragazzi sono abbastanza sereni, si stanno allenando nel migliore dei modi.